Come possiamo leggere le persone? Come possiamo leggere e interpretare i loro comportamenti? Come ci poniamo in certe situazioni e come veniamo letti, interpretati dal nostro interlocutore? Ci sono state delle volte nelle quali abbiamo dovuto gestire una situazione davvero delicata e pesante con un cliente, un collaboratore o col capo. Ci sono tanti libri che parlano del linguaggio del corpo, ma quello che voglio proporre è un libro che parla del comportamento delle persone, incluso il nostro. Risvegliare l'eroe dentro di noi di Carol Pearson. Parla di 12 stili di comportamento che ad esempio ci ritroviamo ad usare durante un dialogo con qualcuno. Mi è stata consigliata da una grande amica che stimo tantissimo, Paola, Paola Sabatini, la quale me ne parlò per un corso che dovevo tenere sulla gestione del cliente critico. Questo libro è utile perché ci permette di comprendere il comportamento che il nostro interlocutore sta mettendo in atto nei nostri confronti e anche il tipo di comportamento che noi stiamo mettendo in atto nei suoi. Parla degli aspetti di comportamento ombra, che erroneamente potremmo definire lati sbagliati, e degli aspetti luce, che potremmo anche qui in maniera sbagliata definire giusti. Un esempio concreto. Quante volte ci è capitato di avere una reazione, a seguito di una provocazione da parte di qualcuno, una reazione molto pesante, aggressiva. Ecco, questo è un esempio tipico del lato ombra dell'archetipo del guerriero. Viceversa, altre volte ci siamo trovati, seppur attaccati da qualcuno, a moderare le parole, facendo comprendere che eravamo disposti a interagire, ma che esigivamo rispetto. Questo è il lato luce dell'archetipo del guerriero. Un altro esempio. Quante volte ci siamo sentiti abbandonati, soli, e avevamo la sensazione di non poter contare su nessuno, e ci sentivamo persi. Questo è quello che viene definito lato ombra dell'archetipo dell'orfano. Oppure ci siamo trovati a volte ad essere euforici come dei bambini allegri di fronte a un evento della vita. Questo è il lato luce dell'archetipo dell'innocente. Proprio per questo il libro ci è particolarmente utile sia se svolgiamo un'attività commerciale di relazione col cliente, ma anche per chi si occupa, come me, di formazione, per identificare il tipo di comportamento che stanno mettendo in atto nei confronti, nei nostri confronti, e che noi stiamo mettendo in atto nei confronti del nostro interlocutore. Ci sono dei test da fare nel libro per cui è estremamente dinamico, ricco di esempi che ci permettono di conoscerci, ma anche di risvegliare quelle parti che noi schiacciamo, che teniamo a bada perché abbiamo paura di quei lati ombra, paura di farvi emergere. È utile quindi per una propria crescita personale, per aumentare la consapevolezza di sé e per leggere le persone e aumentare la relazione. Ringrazio ancora Paola per avermelo consigliato anni fa, Carol Pearson, Risvegliare l'eroe dentro di noi, Edizioni Astrolabio.